Siamo nella vita di quelli che dopo due mesi... E invece da quattro anni non possiamo farlo, sono quattro anni che stiamo chiedendo di fare un congresso e quattro anni che ci viene detto dopo, 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 non c'è un dopo, è adesso perché ci sono le europee, l'Unione, noi vogliamo essere protagonisti della campagna elettorale per aiutare il PD, ma non possiamo farlo se non abbiamo un segretario nazionale Non è una manifestazione contro il PD, lo ridico ancora, non è una manifestazione contro il PD che non è una manifestazione contro il PD, più che altro è uno sprono perché noi sono quattro anni che siamo commissariati Magari riusciamo nel frattempo a entrare, poi saranno le forze dell'ordine a doverci fermare prendiamo atto che i giovani nella sede del partito non possono entrare perché i giovani devono essere fermati per forze dell'ordine Fate i centrali, 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 fate i centrali giovani democratici non possano salire a discutere in direzione di politica perché qui... Facci salire, oi li facci salire